Allora, partiamo in ordine, partiamo da un god. Io non è che faccio distinzioni, cioè l'RFC la valuta scarsa, è forte solo un Nocturne per dirti, per fare un esempio. Non è meme, però è scarsa. Lui l'ha divisi bene in realtà, come l'ha divisi lui, però vabbè, alla fine sì, ce l'ha valuta lì così. Io metto trap e god, lo vorrei sempre nel pick e sei sempre contento di prenderlo. Certo, se ti manca l'item da un carry, magari poi dici l'item da un carry, però questo lo picki sempre. Poi, Ludens, io la metto a S perché comunque lui l'ha divisi a P e a D, però comunque è forse il miglior item per a P carry, perché c'è la starting mana, sta anche nel faco. Poi può essere tra A S, sicuramente A S. Dipende dal carry a P che è in meta, poi. Eh sì, vabbè, sì, poi vediamo le teorie. Situazionale, però è... Sì, cioè in realtà ci sarebbe proprio B, C e D, si può rinominare tipo... Eh, lui ha messo... Situazionale... Mettiamo... Mettiamo, boh, qualcosa... Cioè, qualcosa... Vabbè, possiamo anche cancellarla questa. Sì, sì, sì. Eh, ok. Però, allora, cioè, è comunque... Cioè, a P, però è un item forte a P, o. Cioè, non ha senso tenere S a sto punto. No? Beh, magari... Desic come la divisi, scusa, per copiarle. Adesso te lo dico. Sì, sì, copiamo Desic. Desic ha messo... Desic ha messo S, A. Vabbè, God A. God A. A, D, A, P, situazionale. A, D, A, P, entrambi. Ci ha messo G, S e O, G, vabbè. Ok. Poi ha messo B, situational, if needed, e skip. Cioè, rispetto a me, cosa ha messo? Cioè, io ho messo God A, B, A, D, A, P, situazionale, meme. Sì, sì, sì. Va benissimo. Ho messo così. Eh, cioè, però... La BT la mette in A, D. Però è un item fortissimo. Cioè, che cazzo vuol dire? Eh, sì, sì, no. Poi li metti in ordine all'interno. Ah, ok. D, A, P, è a posto. Beh, Blubuff è meme. Cioè, non è che c'è senso da parlare. Eh, Blubuff, io... Per me è situazionale, però ci sta. Mi sta pure mettere un meme. Boh. Perché, tipo, nelle transition A, P, è forte. Sì, ma non lo piccheresti mai. Su Velcro, se pure ce lo metti. Se non c'è il Luden, se ne ne picche, insomma. Sì, sì, però è meme. Cioè, tipo la Brumble, io la metto A. A voglia. Per dirti, come oggettivo. Calice, meme. A voglia. Sì. Eh, Detrid la mette A, D. Poi stiamo a vedere dopo. Eh, certo. Eh, Diclo, situazionale, o B? Diclo io lo metto B. La metti? Eh, non può essere al pari della Brumble, perché ovviamente il meta è prevalentemente A, D. Però una Diclo non ti fa schifo. No, è prevalentemente Critto, proprio. Cioè, la Brumble è troppo forte. Sì, però non... Perché i carri a più sono Critto. Ma non ti fa schifo. La Diclo, se ne è una Lettom, non ti fa schifo. No, non ti fa schifo. Perché blu meme? Boh, è forte solo su due champion, di cui uno non è in meta, perciò... Cioè, è forte solo su Timo. Esatto. È forte solo su Timo. E non è forte manco su Karma, perché... No, Karma va bene Shoujin quando l'hanno reworkato. Cioè... No, sì, ma anche il blu normale, però... Cioè, il blu... Quello non è che gli dà più mana. No, però ti dà più AP. Cioè, ci sta sotto il punto di vista. Eh, gli dà più AP in più, però... Frozen, God, io non... Oh, io... Questo io non lo so inquadrare, lo mettevo A, però... Cioè, l'Unionose ha 3% di Regen. Se è su Gali è God, cioè... Su Gali è questo è God. Il punto è che non c'è una comp in cui non giochi un champion che lo può portare, perché per me è God. Sì, sì, è God, però se me dopo esti, cioè... Sì, ci sta. GS, io lo metto A. Perché, cioè, sia D sia AP. Sì, sì. Se sei indeciso tra la comp è troppo forte. È always pick. Sì, sì, è always pick. GA è OMM situazionale. Per me è situation, già, perché se stai alto d'HP con item di cura, tipo, la pick, giochi in Gale Action. Eh, ci sta. Sì, beh... In situazione lo pick, già. Ma... Beh, è Gwinzo... E lui è forte. Gwinzo, cioè, o è situazionale, perché comunque è forte e la pickchi sempre. Perché la Gwinzo la anche prenderesti sempre. Però, cioè... Ed io, secondo me la Gwinzo non ci arrivi al pick. Cioè, la piglieresti... Cioè, è quasi A perché la puoi già anche sugli AP. Però è molto più scarsa sugli AP, eh. No, dai, ma c'è... Per gli AP c'è troppi dei migliori a piccare, cioè. Infatti, io la metterei quasi B, però più forte di quello che è... Questa è una mia canzone, scusate. Proprio è un item... Questo è un item... Probabilmente situazionale, però. È un item strano. Probabilmente situazionale. Su certi jump è fortissimo. Cioè, è... E sì, possibilmente AD AP. Non ti fa schifo vederlo, perché comunque è forte. Akshan, Kyle, Aphelios, Draven... Nocturne... Cioè, sì, sì. È secondo me situazionale. È Osh, Blessed, da A. A, perché comunque è un item solido. Flex. Sì, sì, sì. Gumblade, siamo sempre lì. Cioè, è meme, cioè. Gumblade... Boh... Non so se è meme o B. Cioè, lo possiamo mettere... No, possiamo mettere l'AP. Sì, tra l'ultimo delle AP. È l'ultimo. O è l'ultimo dell'AP o è meme. Sì, sì, sì. No, non è situazionale. Situazionale non è, perché situazionale non è flex. Non è nothing flex. Non è nothing di merda. È IE uguale. Cioè, è solo AD, perciò lo mettiamo in AD. Può andare... Può andare negli AP, ma... È situazionale negli AP, ma è IE sempre AD. Cioè. Spark... Tanta roba. Io la metto in AP, ma è tanta roba. Spark... Spark... Cioè, in realtà, non è AP, in realtà. Spark per me è A. Spark... O è A, è God. Probabilmente la metto in A, tra i primi. Cioè, secondo me God, no? Perché God sono quelli che picchi sempre. Sì, da Spark è vero, la picchi solo se sei AP. No, no. IASO e MF la hold, no? La Gumblade? Ma fa schifo. Cosa fai aggiare? Vai aggiare solo su Velcoz. Su Eimer è scarso. Sì, IASO e MF e Velcoz. Un interchampion che la hold, no, quella. No, no, ah, non è che la gioi solo nell'AP. La gioi perché comunque è un item fortissimo. No, la gioi per me è un mystic. Sì, ma non solo carry. Non solo carry. Anche quando lo butti a porco dentro una compa di fiddle per i Revenant. Per cui la superforte. Vabbè, la twist per spellcrit PAD rispettivamente l'ho messa nell'ordine di Migarbano. Cioè, Solari meme, Morello meme, QSS meme. Cioè, potrei mettere situazionali per Blender, ma... Boh, cioè, Blender o Jax o QSS però... Ma, RFC situazionale. Perché comunque è cosa. Beh, però è proprio QSS situazionale. RFC situazionale. Eh, però RFC è meglio di QSS. Cioè, QSS non è situazionale. No. Cioè, te se c'hai QSS e RFC cosa picchi? Perché hai sempre RFC? Eh, dipende. Se stavo dentro, senti nello scrimmice, il QSS. Eh, però, verosimilmente te... Cioè, ci entrerai da... Cioè, preferisco sempre vedere RFC che QSS io. Morello meme? Eh, Morello meme, dai ragazzi. Ci sta. Morello meme, sì. Cioè, il fatto è che RFC... Boh, a me non mi piace particolarmente. Probabilmente possiamo metterle... Sono uguali, però. È Tier 2 su Nocturne, però... No, possiamo metterle anche meme. Cioè, nel senso... Dovrebbe andare Paripasson coso. Sì, vanno sicuramente insieme. È Godlike solo su Nocturne. È buona su Jax. Fa schifo su Aphelios. Fa schifo su Draven. Cioè, nel senso... Può andare su Draven, proprio. Possono essere situazionali entrambi o meme entrambi? Sicuramente li valuto meglio di vestibili. Per me è situazionali entrambi. Cioè, meme no. Redemption... B. B. Metto B. Runan? Situazionale progresso. AD. AD? Uno degli ultimi dell'AD. Sì, sì. Uno dei più scarsi, sicuramente. Poison A. Se non... Cioè, poi non lo metto God, perché comunque nella compa AD perde il value. Però... Esatto. Il Poison è comunque forte. E' come la Spark. Shogin? Situazionale? Shogin situazionale. Perché è veramente strano che... O esso... Cioè... È inverosimile che lo picchi nella compa AD. Possiamo metterla nell'AP? Però... Eh, però... Cioè, nell'AP è strano. È un item che non è AP, ovviamente. Perciò non va messo negli AP. No, poi è comunque strano, perché... Cioè, è difficile che tu entri su una compa AP senza l'item di mana. Cioè, è difficile che stai giocando ad entri su una AP senza l'item di mana. Cioè, io quasi la metterei B, perché comunque ho situazionale tra gli ultimi. Cioè, è meglio dire che faceva quel sesto. Cioè, io sono d'accordo con Perni, che spesso l'hai già committata quando la trovi nel pick. Eh, però Shogin Blessed, se il tuo pick è una merda, non è che la pigli, eh? Cioè, la pigli. Sì, sì, no, la pigli, certo, certo, certo. Cioè, fra... Sante volte... Cioè, mi è successo di ripensare... Cazzo, dalla Shogin Blessed a Velcro, se l'altra Shogin la do a feed e stico Ivan, per dirti, cioè... Sì, sì, sì. Lo puoi pensare? No, no, quello l'ho fatto pure io, quello l'ho fatto pure io. Static e meme. La Blessed non vedo mai più cazzo. Cioè, non esiste. Eh, la AP io non la metto Gold, io la metto B. La metto... Cioè, quasi la metterei... Quasi la metterei male, no? Io la metterei situational, addirittura. Cioè, boh. Che cape Gold? Vorrei capire perché. Ah, Perry non capisco perché dice God. Anch'io non capisco perché... Glielo vorrei chiedere, guarda. Non lo capisco, eh, davvero. Non lo sto, ma davvero. Glielo vorrei chiedere perché non capisco. Eh, ho capito, Perry. Che sul labo... Ma, se non giochi... Eh, ho capito, c'hai Rechen, c'hai Cure Ridotte, ma... La AP è un... L'ho detto prima, allora lo ripeto. Che magari questo va anche su YouTube a meme, c'è andrà. Cioè, questa cosa, la AP. Allora, è un item che slami sempre a stage 2 sei contento. A stage 3... A 3-1 sei contento. A 4-1 non la slami. Cioè, a 3-1 non la slami. Poi dipende. È forte solo su un 1. Su altri champion fa sboccare. Cioè, non è piccabile in nessun altro spot. Cioè, se c'hai Ape o Morello su Galio, pigli sempre Morello. Cioè, per dire. Per fare un esempio. Però... Ti fa 4k 4 damage su Galio? Ah, su Galio può essere forte Ape se hai item tipo Stomplet e Redemption. Magari perché ti dà il Regen. E Morello non ti dà il Regen. Sotto questo può essere forte. Su Galio e su Ralso non ho. Ma io non è un item che piccherei. Cioè, io non ho mai piccato la Ape Blasted, ragazzi. Vabbè. Forse sotto la down oil, però non lo capisco. Vabbè, è la nostra tier list. Non l'ho mai presa manco io. Cioè, l'unica cosa che c'ha è il Regen. La cosa forte. Oltre ad avere il danno puro che c'ha, c'ha il Regen. Cioè, il fatto è che la maggior parte delle volte potresti avere già una Ape slammata, eh. Cioè, non scordiamocelo. Eh, esatto. Cioè, io per esempio quest'altro armor, cioè, è difficile che vada a piccare una Ape. Perché significa che ho già almeno due armor su bordo. A 3,6. Sì, sì. Però quello che posso dire è... Boh, se me God non ce la faccio ammettere. Può essere A sottovalutata da noi. Può essere A sottovalutata da noi. Eh, non mi rendo conto. Cioè, davvero, non l'ho mai piccata. È comunque meglio tutti i meme di almeno la metà dei situazionali. Meglio dei situazionali. Brumble o Cape, se la lobby è full a D la pigli Brumble. Cape, se no, non la pigli nemmeno. Cioè, dipende dallo spot. È meglio della Spark? Se stai andando a D, sicuramente. Brumble la pigli quasi sempre. Stomplit inferiore a Cape? No, Fra. Stomplit non può essere inferiore a Cape. Stomplit è 3 di Regen. No, Stomplit è broken. 3% di Regen. Se c'è l'aggro, c'hai armor MRAZ gratis. La metto A perché è sottovalutata. Cioè, da me, sicuramente. Doppio pugno io la metto gold. Non mi ha fatto un cazzo. Pure io. Sì, sì, sì. Titan Blessed, anche lì. Forte. Questo è sottovalutato A. Ma se Cape è alla S7. La Swisper è un item a D. La Swisper è invalutabile. Cioè, la Swisper lo metto più scarso di questi. Perché comunque sono più forti questi. Perché la Swisper, diciamo, ce l'hai già committata normale, sotto il punto di vista. Per voi situazionali intendete che hanno bene solo a poi i champion? No, è che in poi i pick la prenderesti. Cioè, preferiresti comunque sempre questi items, secondo me. Cioè, ovviamente se la Gwinzo magari ce l'hai già slammata, pigli la D. Loh, pigli la Redemption. Non pigli un'altra Gwinzo. Poi RFC la pigli solo in Blender o in una situazione particolare. Se no pigli sempre BT, Deathlade. Cioè, piglieresti altro. Titan A, sicuramente. Warmog B o meme? Cioè, quasi meme, ma non la metto meme perché comunque la piglieresti. Cioè. Boh, a me non piace. La pigli solo sull'Abo. A me? No. Non la pigli solo sull'Abo. È un item Frontline che vuoi sempre nel pick perché comunque è un item Flex. Questa non è osa, è vera. La forza di best item è che è Flex. Cioè, veramente la puoi dare a chiunque. Però. Questa è AD. Non esiste altro. Ma come Garen? Ma chi lo gioca Garen? Solo il Jaxcompo lo gioca Garen. Eh, Karma. Se qualche pazzo c'è la Karma. Eh, è Draven con i Wattonite. Draven con i Wattonite. Vabbè, ma questo è sempre di Galio, eh. Cioè, il... Zephyr God, no. Zephyr God, no. ZZL8MM, siamo d'accordo. Zephyr, boh. Se a me non è God perché come hai detto te prima, nelle cose AP non è forte. O il primo di B o l'ultimo di A. Cioè. Sì, sì. Io ti dico, la metto B perché non sono contento di vederla. È un item... Facciamo così. Schillato l'8. Forte finché tanto sono tutti vivi, metti sempre lo Zephyr nel carry. O lo Zephyr permafrontline. Sì. Però lo puoi missare. Cioè, può essere un item inutile. Eh. Eh, può essere un item in meno. Cioè, un Radiant in meno è pesantissimo. Se io faconto con la Warhammer, c'ho la vita assicurata su quella davanti, io la metto anche più scarsa di B. Se a me è più scarsa di... Cioè, è ai limiti del meme, secondo me. Cioè, l'unica cosa è che è talmente forte che ti puoi vincere il game da solo. Sì. Poi se c'è la transition anti comunque è forte overall, quindi, cioè, non è brutto come non hai davanti. Però effettivamente se sono messi... 20% attack speed è forte anche sugli AP? Forte sugli AP. No. Vabbè, non è ai limiti del meme, ma scusate, preferiresti un item Radiant forte e uno Zephyr normale che un item Radiant Zephyr. Cioè, cento volte. Esatto. Cioè, ah. Il fatto è che gli item God sono quelli... Poi in generale è un item troppo late per giocare stage 4. Ah, gli item God sono quelli che gli sta piccheresti, instead questi altri. Cioè, l'ordine poi è a preferenza. Cioè, io metterei doppio pugno secondo, trap club primo. Frozen, guarda, lo metto quarto solo perché ti serve o un Assassin o comunque Galio, fortissimo. Cioè, non... E questi sono più forti. L'ordine di questo... Sì, ma. Frozen è veramente ridicolo. Pure su canon e le zine in transition è ridicolo. Ti dico, l'ordine metto OJGS perché li vedo molto più flex. Poi, Brumble, Spark, Titan made della Spark. Cape al pari della Spark, non so. Poison ultimo per il ragionamento di prima. Perché preferissi un Poison normale... Vabbò. Eh, Poison è fortissimo, ma ne compro a P, però. Eh, no, ma infatti ti dico, è forte, lo lasciamo in A. È come lo Zephyr, però è più forte perché comunque... Ad, Detredo, Bt, uno dei due primi. Sicuramente Detredo è quello con più value, però la Bt la devi sapere sempre su alcuni champion. Detredo, D, la Swiss per Runan, Zeke. Zeke è meglio del Runan, guarda. Zeke è forte. Zeke è molto forte. È meglio pori lo Swiss. Cioè, Zeke lo mette ai terzo. Ben via di tantissimo. No, l'E è più forte, dai. Boh. Se me è così. Zeke, boh, lo puoi mettere più avanti, però, boh. L'E, diciamo che... Dipende. Diciamo che l'E non la piccheresti mai se ci hai detto le do Bt e lo Zeke lo piglieresti, però. Il fatto è che pure a Stage 4 è tanto forte perché dai Lingator Champion. Vabbè, sì, sì. Mettiamola più avanti, va. AP, Ludens, Perkett, Gumblade, Rabadon, penso sia abbastanza easy. Sì. Miglior situazionale che... Gwins, sicuramente, GA, secondo, terzo, Shojin, per forza. Qui, boh, cambare parci, 5-4-3-2. Eh, quello... Quello non si odisce, quelli. Cioè, c'è una categoria a par... Cioè, mettiamo la categoria sotto, 7-7-7. Osh Radiant, God, la vedi? Non ti lamenti mai? Osh Radiant, ti dico una cosa. La vedi? Non ti lamenti mai? Vero? Però non è nemmeno quell'item che dici... Ok, lo ista picco. Perché, cioè... Di solito c'hai o la BT e già non la pigli, Osh. Cioè, già ti escludi, a più. Qua dipende tanto dal playstyle, perché... Cioè, se hai slammato roba generica, la pigli sempre, Osh. Se hai slammato item da carry, è difficile che la prendi, in realtà. Perché quando arrivi a 3-6, due item da carry ce li hai. Sempre. Se hai slammato item da carry. Io solo. E magari ce n'hai un altro Berto, no? Eh, chiediamo a solo. Solo, what do you think about Sunfire Blessed? I don't know. I'm supposed to be put in B. But I put it in A, because I don't... Maybe I underestimate the cape. Però, vediamo lui che dici. Same. Vabbè, i meme qui... Il migliore dei meme qual è probabilmente Alice o Morello. Locket, forse. Mamma mia. Il Locket, davvero? Solo perché se c'hai 90 HP, ci fai l'8. Solo per quello. Rispetto agli altri. Morello, se... Vabbè, cape, Morello, Calice. Metto a zizzerotta addirittura meglio, così. Se no, questo è meglio. Morello is better. Magari non ha capito la domanda, può essere. Vabbè, Calice è meglio di zizzerotta. Ci sta. Sì, dai. Dai, zizzerotta quando cazzo lo picchi. Mai. Meglio della staff. È come gli altri. Dai, dai. Bluebuff a volte lo picchi. Cioè, con quei due non li picchi mai. Zerotta e shiv. Sì. Fa schifo. Ah, it's fine. I think it was Bologna in A qualifier. Ah, same. I was watching an A qualifier yesterday, and it was like a must pick, but I don't know why. Like, I don't understand why, generally. Cioè, il fatto è che... Cioè, io l'avrei messa a B, onestamente. Cioè, io la metterei in B. Cioè, personalmente la mia classifica la metterei in B. Però... Ah, perché probabilmente la understimo. Questo è l'unico se posso ammettere, ripeto. L'ho già detto due volte, ma... Cioè, ti dà i regent, ti dà danni puri subito, ti dà più stats, ovviamente. Però non è un item che sei sempre intento di vedere a 3.6. Cioè, parliamoci chiaro. A 3.6 vuoi vedere un item che ti definisce game. Non vuoi vedere un item generico. Cioè, se ti vedi il track, lo penso per ma piccato. Se uno... Cioè, a me non c'è bisogno di un item tipo Deathblade Carry, la pigli sempre al track, no? Sì, sì. Ma quei quattro sono quelli che pigli sempre. Cioè, nel senso, se gli altri quattro non ti servono... Non ti servono strettamente, pigli uno di quei quattro per sopra. Sempre. Sì, sì. Però ti dico... Non so. Questi sì, sono giusti. Secondo me è giusta. Ma sicuramente è una classifica giusta. Però, ripeto, la hype... L'item incognita.